La certificazione comprende anche la categoria che è più vicina ai ristoranti, quindi ristoranti veri e propri, ma è una certificazione che si basa solamente sul risparmio energetico e quindi sull'utilizzo di materiali o anche nell'utilizzo di prodotti chilometro zero o cibi provenienti da una certa filiera, nello specifico una filiera corta? Esiste una certificazione che riguarda proprio i ristoranti bio, specifica, naturalmente la cosa principale è che utilizzino prodotti biologici per la ristorazione, quindi esiste uno standard anche per questo. Biologico, biologici o anche locali stagionali? Se sono locali stagionali ma soprattutto devono essere principalmente biologici e quindi sì, esiste. In Puglia sono diffusi? Qualcuno, in particolare è molto diffusa la ristorazione collettiva, parliamo di messe scolastiche oppure che servono gli ospedali e quant'altro, quindi parliamo di ristorazione collettiva in prevalenza, i ristoranti sono pochi, perché comunque è più diffusa la ristorazione collettiva perché spesso ci sono degli appalti a scuola, la scuola spesso, siccome da un panteggio maggiore, offrire prodotti bio, quindi fare ristorazione collettiva bio, è chiaro che, ma vi posso dire, facciamo un esempio, vorrei evitare di fare pubblicità ma lo devo fare. Ikea, per esempio, conoscete tutti Ikea, fa la ristorazione menu bimbo tutto bio ormai da tempo ed è partner di CEA in questo. Quindi comunque è perché, dice ma cosa c'entra? C'entra in sì perché se loro si fai utilizzare del legno che viene dalle foreste sostenibili e tutte le certificazioni che riguardano praticamente il legno, le FSC, eccetera, ci sono tante certificazioni, a maggior ragione anche la ristorazione deve essere bio, perché bio vuol dire a bassissimo impatto ambientale. se ne volete sapere di più, potete rivolgerci direttamente all'ufficio, alla sede di Bari, ecco, ci sono dei referenti che vi potranno, in particolare il dottor Manna, il dottor Riccardo Notarnicola, potete scrivere il numero 080 555 9457. Quindi il vantaggio è anche quello di avere delle sede operative territoriali, di avere anche delle persone, dei nomi con cui, cioè non bisogna andare necessariamente al nazionale di Bologna, se si hanno delle esigenze particolari o degli standard certificativi di altro genere, è chiaro che... 080 555 9457. Dottor Manna è il responsabile, è il CCSOT cosiddetto, praticamente è il responsabile di controllo e certificazione, difficile trovarlo però una risposta ve la si dà tranquillamente. Mentre il dottor Notarnicola è chi si occupa poi della certificazione, etichette e quant'altro. Quanti posti deve avere un agriturismo? Questo penso sia una domanda... Posti per... Posti letto, credo. Ma esiste una legge dell'agriturismo in Puglia? C'è una legge del quadro sul turismo che definisce le... Vi posso rispondere? Rispondo io? Io ero fermo a 6-9 posti o no? Qual è il B&B? Allora, la seconda legge del quadro è un massimo 10 posti, perché tu dici, perché il principio è quello, vi parlavo di attività agrituristica, è sempre attività connessa a quella agricola. Allora, si dice la legge del quadro, quella nazionale, è vero che il principio è quello temporale, allora il tempo dedicato all'attività agricola deve essere superiore a quello dedicato all'attività agrituristica, è secondo per la complementarietà, è secondo, quindi facendo dei calcoli loro hanno deciso che il massimo deve avere 10 ospiti. Poi, in realtà, che succede? La legge quadro dà delle direttive, ma deve essere recepita a livello locale, dalle varie regioni. Esiste in Puglia una legge che risale all'85, in cui non si dice quanti? 2006. No, ci fu la prima legge quadro dell'85, successiva alla legge regionale dell'85, quella pugliese, però poi c'è stata la legge ultima del 2006. però, forse sto dicendo, non ricordo proprio bene, però, anzi, ve lo posso dire? No, no, non ci sono problemi. Ho i dati, ho i dati, ho i dati, ho i dati, ho i dati. Eh, ma i dati sono, i dati sono importanti, eh. Le leggi ci sono, eh. Non è che... La realtà, quella che conosco personalmente, è che le tende agrituristiche hanno circa 3-400 posti... In realtà esiste anche un disegno di legge regionale pugliese, perché anche la legge... la Puglia non ancora non sia adeguata, in cui si parla di 70 coperti e di 40 massimo posti letto. Che sarebbe? Un disegno di legge. Che sarebbe quella dell'85? No. È un disegno di legge del 2006? Praticamente c'è una legge, la legge quadro è cambiata nel frattempo. Dopo quella dell'85 c'è stata un'altra legge. Ve lo apro il documento. E quindi si fa riferimento a quella del 2006? No, e... E le aziende agrituristiche che organizzano i matrimoni? Cioè... Il problema... Non è quello che fai, ma è come lo fai. Non è il problema del matrimonio. Non lo vedo, non lo metto in termini di matrimonio, ma come organizzi e quanto e cosa utilizzi. Perché la legge quadro è chiara su queste cose. Dovresti utilizzare prodotto locale. proveniente... Io la apro, così è molto più semplice farvi... Parliamo con la legge a portata di mano, in modo che... Allora, funzionalità... Dovrei averci, perché... Ah, documentazione agriturismo. Ok, perfetto. Allora, è la legge 20 febbraio 2006. Questa è la legge nazionale. Ok? Quindi qualificare, eccetera, eccetera. Allora, qui parla chiaramente, dice... Allora, rientro tra le attività agrituristiche, dare ospitalità e alloggi in spazi aperti, desiderato a sostenere i campeggiatori. Somministrare passi e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e prodotti di aziende agricole della zona, i compresi prodotti di carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati da marchi, DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, e compresi in regola nazionali tra i prodotti agricoli e alimentari tradizionali. Quindi già organizzati degustazioni, eccetera, eccetera. Sono considerati di produzione propria i cibi, le bevande e i prodotti, questo è l'articolo 4, lavorate e trasformate nell'azienda agricola, nonché quelle ricavate a materie prime dell'azienda agricola ottenuta attraverso lavorazioni esterne. Che vuol dire? Se io produco ciliegie ma non ho un laboratorio, posso rivolgermi al laboratorio esterno e fare ammarvaliate con le mie ciliegie. E qui ti dice, ai fini, vabbè, si parla di reddito agricolo, locali, non mi interessa, andiamo avanti, criteri e limiti dell'attività agrituristica. Le regioni, tenendo conto, dettano criteri e limiti. Allora, l'attività agricola si consiglia comunque prevalente, lo leggiamo tutto che è meglio, affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensionità di apprendere i requisiti di connessione, quindi come riguarda il riferimento al tempo di lavoro, necessario all'esercizio delle stesse attività. L'attività agrituristica si consiglia comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti interessa un numero non superiore a dieci ospiti, non dice quanti coperti o quanti posti, ma proprio ospite fisico, cioè tu non devi avere più di dieci ospiti. Pensate bene, ai nostri agriturismi sono già quasi tutti fuori. Ok, perfetto. Esiste poi un disegno di legge, perché è chiaro, come vi dicevo prima, comunque deve essere recepito poi a livello locale. Esiste un disegno di legge, questo qua, regione del 2011, ma è disegno di legge? vuol dire che non c'è ancora una legge. E cosa dice? È un disegno che rimane là. La Puglia ancora ha la legge del 85, morale della favola. Però è interessante quello che puoi. Ah, è un disegno di legge interessante, perché ha inserito la pesca turismo e l'ittiturismo praticamente. Pensate un po'. Tum'attività agrituristica. Allora, andiamo avanti perché qua... Quindi continuiamo, perché voglio andare a trovare quel punto famoso, eclatante, no? Quel punto eclatante del discorso dei posti, dei coperti e... No, 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 sto andando già... No, no, lo devo andare a trovare. Quindi, dove sei? Locali. Allora. Criteri e limiti di attività agrituristica. Ok, lo dice qua. Allora. Nel disegno di legge, cosa dice? Posti letto in un numero non superiore a 40. Posti a tavola non superiore a 85. Ma è un disegno. Non è legge. E' riva nell'altro. E se è un disegno non puoi fare riferimento a... Non puoi fare riferimento a... Anche se poi nei bandi, so che negli ultimi bandi, si fa comunque riferimento a queste limitazioni. Lo sapete cos'è il PSR, no? Il programma è dove praticamente ci sono delle misure, eccetera, eccetera. Vengono erogate dai fondi, si accede a questi bandi. Quando ci sono bandi riguardanti l'agriturismo, ci sono delle limitazioni. Però materialmente non ci sono limitazioni. A tutt'oggi. Una curiosità. Riguardo a questo problema dei posti letto, questo disegno... Non stavo seguendo, però forse mi è sfuggito un passaggio. Questo è un disegno di legge che vale per l'agriturismo? Sì. Ma ci sono ovviamente disposizioni analoghe per gli alberghi e per altri tipi di strutture ricettive, e quali gli ostelli. Faccio questo, magari ricollego al tema di domani. Perché io so, per quanto riguarda gli ostelli, che spesso le disposizioni possono variare addirittura da regione a regione o da comune a comune. Ma è così. È così. È così. Cioè, volevo sapere se questo vale per tutti i tipi di strutture ricettive... Anche il bed and breakfast è regolamentato a livello regionale. Regionale. Sì. Cioè, magari sarebbe, ecco, parlando in genere, insomma, noi che siamo... Sarebbe auspicabile avere una legge che... Non sai perché non si può fare? Perché purtroppo vanno a rispettare le autonomie locali. Sì. Certo. Dicevo, dopo la morte del Ministero del Turismo è stato decentrato tutto quanto a livello regionale. Quindi si fa la legge quadro... Perfetto. E poi... E poi viene ricevito a livello regionale. Quindi regione per regione, provincia per provincia, anzi, anche nelle province, tipo per quanto riguarda le agenzie viaggio, ora, tutto il discorso della normativa è provinciale. Quindi anche per... E c'è un dedalo di... Allora, un altro dramma. Le USL, quando fanno le autorizzazioni di gine e sanitarie, a livello provinciale, a livello di... Viaggiano a sé. Quindi alla fine, quello che vale in un comune, non vale il comune di Mitrofo. Siamo in queste condizioni. E' così. Comunque, accedendo al sito, immagino, ICEA, si possono vedere quali sono le strutture, parlo di strutture ricettive, ristorative, o agende bio che hanno il marchio? C'è, nella parte del copio turismo, certo, lo scopo è anche qua, ci sono delle schede. Ci sono delle schede che riguardano... E poi, se ci sono delle iniziative in atto, c'è ampia diffusione, le iniziative in atto e chi partecipa e le offerte. Quindi possiamo attingere come informazione da quell'elemento? E' aggiornato, diciamo. Si, si è aggiornato e quindi potete tranquillamente accedere al sito e magari prendere ispirazione per altri tipi di certificazione che noi offriamo. quello che poi vi può... Per esempio, è molto interessante il discorso della bioarchitettura perché è importante che si utilizzino i materiali naturali oppure il biotessile. Noi mangiamo, biologico, ma poi ci vestiamo con prodotti che non sono naturali, i coloranti. Io a proposito di questo ho fatto visita alla sede di un'associazione molto interessante per me che sta conversando che si chiama Canapuglia. E' molto interessante il lavoro che stanno facendo loro anche perché stanno... Allora, noi abbiamo un problema, Il problema fondamentale sono i costi perché... Lo so, perché poi la possibilità è come trasformare questo prodotto. Allora, tutto il discorso che noi facciamo del bio, della sostenibile, eccetera, il viaggio in... Ma per questo vi dico siamo imprenditori prima di tutto. E coniugare la redditività... Eh sì, lo so, è quello il problema. che diventa settoriale, diventa solo eccessivamente settoriale, settorializzato, cioè solo pochi possono accedervi. Io ti interrompo. Il problema nostro non riguarda solo il lavoro dell'associazione è che praticamente anche parliamo della ricerca che si fa a livello universitario. Non ci sono degli investitori. Quindi questa ricerca fine a se... Cioè non abbiamo delle persone forti che poi posso dire anche una cosa che magari non vi piace. Però la ricerca deve essere poi applicata. Allora il problema è quello anche a livello del lavoro di Canapuglia. Io sto pensando se ci fossero degli imprenditori disposti a investire e allora anche quel discorso sarebbe... avrebbe una maggiore diffusione. Il problema qual è? i nostri imprenditori non sono più in Italia. Non sono più in Italia. Se ne sono andati in Europa. Dove sono gli imprenditori? Eh, che bella domanda, vero? Se siamo in crisi sul tessile convenzionale ma sul tessile bio non investe nessuno. ho provato a vedere un paio di pantaloni di Canapuglia che costano 150 euro onestamente. Eh, lo so. Lo so. E questo è il problema. Così come anche magari le vacanze bio in determinati... Cioè, o vacanze turismo sostenibile eccetera. A volte i prezzi sono molto alti e quindi non alla portata di tutti. I costi di produzione sono alti però. Vediamoci di cose che è così. Cioè, non è che sono degli... Cioè, è chiaro che... Lei prima ha parlato di bioarchitettura. Sì. E... Sono... Eh... Sono anni che io propongo bioarchitettura. Sono architetto anche se oggi sono qui in veste di... Certo. Sono con l'associazione Sud Nord di Huochi come istruttrice di Nord di Huochi come diciamo ehm... Pratico il turismo spero appunto sia sostenibile che... Con i cammini itineranti. Però dicevo, volevo dire questo. Eh... sono anni che lo propongo. Non c'è stata mai un'impresa che ha voluto accettare il progetto di bioarchitettura. Adesso sono riuscita da un po' di anni a farlo perché c'era l'obbligo da parte del comune eh... per delle cooperative edilizie per la sediazione dei suoli. Se questo non si fosse verificato io non sarei ancora una volta riuscita eh... a fare... a fare questo. Ne io ne il mio collega che appunto è docente dell'ANAB perché prima ho visto architetto venuti però non sempre è vero magari questa azienda del tessile ha questi costi perché la produzione anche è inferiore a quella che può essere la quantità che porta ad un abbassamento che è una legge di mercato come voi sapete però per quanto riguarda la bioarchitettura eh... quel poco che ho già realizzato il risparmio che ha dato agli utenti i fruitori finali è... indescrivibile ma nonostante io sono vent'anni che... eh... che lo dico e cerco di farlo se non ci fosse stato questo obbligo eh... nessuno l'avrebbe l'avrebbe fatto e vi assicuro che c'è un risparmio eccezionale anche se costa un po' di più l'architettura tu certo ci sono delle abitazioni dove il il riscaldamento si attiva in maniera automatica non più di 20 giorni un mese l'anno eh... perché le coibentazioni vabbè tutte le lele infatti in maniera tale la struttura da conservare il calore poi comunque non sempre è vero che quello che ecologicamente eh... valido è costoso uno deve essere lungimirante non deve guardare solo ma il problema è nostro che noi viviamo il contingente sì certo spesso siamo presi dai nostri problemi quotidiani e non abbiamo neanche quella capacità di pensare appunto a lungo termine però magari per una persona per chi un imprenditore che vuole ristrutturare un palazzo una masseria eccetera magari potrebbe essere utile questo tipo di architettura perché poi nel tempo perché per chi ha una struttura del genere i costi fissi sono altissimi quindi sicuramente andare a battere quei costi gli darebbe modo anche di abbattere i costi i prezzi eccetera 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 sì però ti posso dire una cosa l'imprenditore purtroppo a volte non ha questa preparazione ha dei limiti allora è vero che tipo conosco molti imprenditori che hanno investito sulle biomasse discorsi anche questi però si fermano a un certo punto non vanno oltre se avesse questa capacità di apertura mentale perché questa è l'apertura mentale capire pensare sarebbe molto cioè loro non si rendono conto di perdere l'opportunità così però è una limitazione spesso hanno delle limitazioni vi penso questo arrivano fino a un certo punto ma poi si fermano a quel punto vanno oltre è una questione di competenze che vanno scusate è una questione di competenze non mi permetto di giudicare sinceramente no anche in base alla tua esperienza di certificatrice mi chiedevo forse non non so forse vivono nei loro problemi contingenti perché comunque adesso diciamo è un periodo particolare è l'emergenza che qui non è facile hanno ben altro a cui pensare anche se loro poi in questa maniera il ben altro a cui pensare dovrebbe includere anche questo ne va del loro lavoro in ogni attività ci deve essere una componente di ricerca e sviluppo cioè è il solito problema cioè in ogni attività in qualsiasi settore anche in quello turistico comunque ci deve essere la componente di ricerca e sviluppo ed è questa che è stata abbandonata da vent'anni da trent'anni e diciamo e se non incentiviamo invece questa componente allora vedremo sempre diciamo sempre dei tentativi che però non porteranno a una buona riuscita diciamo a medio termine o comunque per dare fiducia nel futuro è per questo che manca adesso la fiducia o il limite degli imprenditori è quello e che diciamo non da almeno in Italia a quanto ho capito e in Italia non si dà diciamo spazio alla ricerca e lo sviluppo lo si vede come un peso non lo so perché in Italia fino agli anni 80 la ricerca c'era nell'industria c'era io ero nelle telecomunicazioni c'era la ricerca e sviluppo dagli anni 87 88 così si è chiusa dappertutto e diciamo ora stiamo raccogliendo proprio gli strascichi finali io vi posso dire per esempio parlo della mia esperienza io sono un dottore forestale quindi lavoro nell'ambito agricolo negli altri paesi si sta investendo molto nella ricerca varietale sono nuove varietà agrumi melograno eccetera eccetera l'Italia che era molto avanti in questo settore anche in questo caso è diventata quasi il paladino di coda ci hanno superato anche in questo questo e mi aggancio a quello che dicevi tu ecco e come si può diciamo contrastare non è un fatto di risorse come è? non è un fatto di risorse sì 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 perché poi investire vuol dire guadagnare cioè se tu investi in ricerca innovazione batti la concorrenza perché comunque ti mantieni diversamente non puoi appunto offrire il discorso io non me lo posso permettere adesso non ci possiamo permettere ma fino adesso ce lo potevamo permettere abbiamo sprecato delle occasioni ma nella scuola diciamo bisogna cominciare a creare delle materie diciamo proprio la ricerca nella scuola ma io mi auguro che con questo nuovo ma non nell'università cioè non bisogna arrivare nei tecnici il ministro adesso che noi abbiamo lei viene dal modo della scuola un nuovo ministro che viene da queste esperienze io mi auguro che sia lei portavoce che sfondi le porte ecco proprio lì che viene da eh è giusto no? già il fatto della ricerca che l'hanno chiusa eh vabbè gli enti di ricerca poi in Italia purtroppo non ne parliamo ok ritornando un attimo al discorso del turismo ehm AITR e ICEA e parliamo della Puglia stanno pensando insieme di creare un unico chiamiamolo portale o qualcosa un come dire un coordinamento a cui far far capo per qualsiasi cosa in cui che sia trattore di tutti gli operatori quindi ristorazione food non food eccetera perché sennò poi alla fine ognuno va per il proprio conto però come anche immagine come brand da portare fuori perché chi viene dalla Norvegia cioè alla fine che sei il Salento oppure che sei l'agriturismo cioè sei competitivo e competitor con Ibiza piuttosto che un Maurizius eccetera insomma per cui non si sta lavorando in questo senso perché sarebbe bello invece facciamolo è un campo aperto ancora a questo facciamolo perché no siamo cominciati adesso qui da noi e quindi abbiamo un campo aperto e perché no certo i relatori appunto di ICEA e di ITR sono stati convocati da noi di Turnel Sud proprio perché in realtà vengono studiati già da un bel po' di tempo da anni e abbiamo richiesto poi le partnership varie anche per partecipare a dei bandi e utilizziamo diciamo utilizziamo l'esperienza di ICEA e ITR come supporto però siamo noi gli operatori locali che dobbiamo lavorare in primis noi possiamo solamente utilizzare ripeto tutto quello che è stata la ricerca di ITR e di ICEA per comunque portare come posso dire l'acqua al nostro mulino e rispettare noi le nostre risorse ecco perché anche noi attraverso il nostro portale cioè il nostro portale lo ripeto un'altra volta è un portale che nasce dal basso certo e noi 5-6 non potremmo fare niente senza il supporto di altri 100 operatori locali che hanno lo stesso obiettivo noi siamo un ente certificatore attenzione non dimenticate questo noi applichiamo gli standard e vi certifichiamo vi diamo credibilità veridicità la possibilità di emergere però il resto lo dovete fare voi e mi riallaccio a quello che è ok diciamo che questo laboratorio è l'inizio di una lunga collaborazione tra di noi e queste cose vengono fatte proprio per questo sono occasioni di poter cominciare a vedere di creare qualcosa di unirci e cioè di unirvi in realtà però è il primo il primo laboratorio sul turismo sostenibile è il primo in assoluto quindi negli anni eh lo so non lo so non lo so però dai con lo streaming e ripeto come dicevo prima il materiale è qua io ve lo sto leggendo in realtà però poi voi potete tranquillamente scaricare voi comunque avete dei referenti a cui vi potete rivolgere chi non è qua avrà modo comunque di recuperare non è un problema anche il fatto di spargere la voce sugli argomenti che sono stati trattati oggi magari nei prossimi giorni fino a sabato avremo sempre un'affluenza maggiore che pausa a proposito a proposito dell'affluenza controllavo di nuovo le mail il nostro indirizzo in realtà qualcuno che si era prenotato anche per la giornata di oggi è venuto meno qualcun altro ha fatto subito presente che verrà domani perché purtroppo la giornata di venerdì era un po' più impegnativa lavorativamente parlando per quanto riguarda l'attenzione come diceva giustamente Francesco questa è stata la prima iniziativa il primo laboratorio in realtà il mio stupore diciamo in partenza quando mi sono confrontato la prima volta con i ragazzi dello staff già a dicembre in realtà avevo un'idea di embrione poi con Francesco ne abbiamo riparlato dopo e qui non so magari può aggiungere qualcosa nessuno aveva ancora proposto niente sul turismo un attimo ti fermo chi deve proporre qualcosa sul turismo deve essere un operatore del settore un con tutto il rispetto per chi vede l'università se non ha avuto esperienza nel settore cosa può proporre ma secondo me questa se posso risponderti ok va bene dovevano essere operatori di settore ma mi sembra che in Puglia non è che ce ne siano pochi la call di laboratori dal basso è partita già da giugno cioè negli sei mesi ok che magari diciamo questo bando doveva un po' rodarsi molti laboratori sono in realtà partiti dopo Capodanno diciamo così però io ho trovato singolare che nessuno avesse fatto ancora domanda per queste tematiche che sono tanto importanti per la nostra economia regionale e nazionale e aggiungo aggiungo inoltre diciamo collegandomi alla possibilità adesso di ampliare la platea noi abbiamo comunque già anticipato qualcosa stamattina a qualcuno ma in realtà abbiamo intenzione di creare un gruppo facebook in cui tutte le persone che parteciperanno questi giorni potranno iscriversi eventualmente chi è presente potrà coinvolgere qualcun altro creando rete in questo senso è chiaro non ci si perde la possibilità di interagire dal vivo con Angelica o con Sergio stamattina ma possiamo comunque continuare il discorso i materiali saranno messi in rete i video sono disponibili sul sito di laboratorio e poi su youtube quindi c'è tutta la possibilità per chi vuole di continuare e continueremo a sentirci qualcuno vuole? Io volevo innanzitutto complimentarvi per l'iniziativa in effetti diciamo io seguo gli eventi che qui tenete presso l'hub dei laboratori dal basso non sono venuta mai di persona lo seguite in streaming questo è sul turismo mi sono sentita più coinvolta perché è un bed and breakfast però diciamo lo stupore che c'è della non partecipazione diciamo degli operatori è perché probabilmente gli operatori del settore vivono su altri canali diciamo di queste per nuove iniziative credo diciamo gli operatori che ci sono in Puglia sono operatori in maniera tradizionale che ormai sono attaccati a tenersi la loro fetta di e quindi ritorno al fatto che questa qui io la vedo come ricerca e sviluppo diciamo nel settore turistico oggi questa giornata o questa esperienza è la ricerca e lo sviluppo e necessariamente la ricerca e lo sviluppo cioè si stacca diciamo dalla routine da chi ha l'agenzia viaggi da chi deve portare le persone e diciamo è una cosa ben diversa ed è normale che non sia popolata credo nel senso che poi da qui devono partire bisogna insistere con la conoscenza facendo la pubblicità la diffusione ma infatti giusto per mi collego subito questo bando è promosso dall'artiche l'agenzia regionale tecnologie e innovazione ed è promosso dall'assessorato alle politiche giovanili i collaboratori dal basso è una delle tante azioni dell'assessorato alle politiche giovanili che ha cercato di fare magari anche sbagliando alle volte ma diciamo ha sempre cercato di fare negli ultimi anni innovazione e formazione quindi ci è sembrato un'opportunità da cogliere al volo poi peccato per chi non c'è noi continueremo a lavorare su questi canali insomma non si può esaurire in questa esperienza ma sicuramente voi lavorate da tanto tempo in questo settore vi posso dire che è normale così cioè le cose non è che allora io mi rifaccio per esempio l'esperienza della fattoria didattica ok perché mi sono coinvolta mi sento coinvolta in questo perché ne ho fatto parte per tanto tempo mi sono occupata di questo allora sono anni che si parla di fattoria didattica in tutte le parti d'Italia del mondo in Puglia al sud la prima fattoria didattica è nata nel lontano 99 pensate che solo nel 2008 la regione ha tirato fuori finalmente una legge riguardante le fattorie didattiche pensate quanto tempo ci vuole noi siamo lenti nel recepire ma poi alla fine tutti si muovono tutti insieme però alla fine non so perché è un'opertà di business purtroppo posso io sono consulente libera professionista consulente nell'ambito proprio nel settore turistico con una particolarità sul turismo rurale lavoro molto con i gruppi di azione locale i GAL attualmente e quello che io ho notato ovviamente per il lavoro che faccio conosco molto bene tutte quelle che sono le politiche le programmazioni turistiche soprattutto per quanto riguarda la regione Puglia il fatto di non avere tanta affluenza in questa iniziativa è semplicemente per una questione di tempo cioè deve maturare un percorso che è iniziato con queste nuove politiche giovanili negli ultimi anni le iniziative dell'arti e solo l'ultima di una lunga serie i principi attivi ritorno al futuro con cui molti di noi me comprese insomma sono riusciti a fare dei master che altrimenti non avrebbero mai potuto fare si sono specializzate nel mio caso mi sono specializzata proprio nell'ambito dell'imprenditorialità e management del turismo sostenibile sono percorsi che attecchiscono man mano perché prima di tutto si tratta di fare dei salti culturali e i processi culturali sono i più lenti in assoluto molto più lenti dei processi economici e l'economia poi segue in qualche modo purtroppo speculando spesso quella che poi è la tendenza che si va delineando a livello culturale un clima quindi questo stesso contenitore in cui ci troviamo un col territorio assolutamente innovativo per il nostro territorio ma è assolutamente diffuso e funzionante in altri territori analoghi al nostro è semplicemente una questione di tempo e io la partecipazione io stamattina l'avevo seguiti in streaming perché non mi potevo staccare da dove stavo grande opportunità questa dello streaming è semplicissima però se ci pensiamo e c'è stato un ricambio anche cioè le persone che c'erano stamattina alcune ce ne sono altre no insomma mi sono fatto cioè voglio dire è una buona opportunità questa si tratta di continuare e di insistere secondo me per cui è un po' in inglese vabbè ma tanto si capisce allora vi ho parlato delle no food certification che sono eco biocosmetici e detergenti turismo sostenibile e bio wellness aree verdi probabilmente si riferisce alla land med che è un altro tipo di certificazione che riguarda i tecnici che si occupano di aree verdi ecological buildings sta per bioedilizia tessile organico e poi la responsabilità sociale di impresa allora ICEA in cooperazione con un gruppo di stakeholders ha preparato degli standard per la certificazione dei cosmetici amici dell'ambiente le cobiocosmesi quindi ICEA regola il settore e elabora standard che sono approvati non solo dai partner coinvolti nella certificazione e dai produzione dai by production e market operators ma anche dai consumatori e dall'associazione dei consumatori quindi praticamente questi standard sono approvati sia ai produttori sia dai quindi da quelli del settore e non che dall'associazione dei consumatori per elaborare questi standard reference was made to the rules and regulations already successfully applied in our European countries quindi sono degli standard a livello europeo quindi questi cosmetici certificati sono ottenuti senza sostanza uso di sostanza proibita praticamente se voi andate sul sito di ICEA esiste una lista di prodotti non ammessi perché praticamente si possono realizzare questi cosmetici utilizzando solo dei prodotti ammessi prodotti che sono reputati non inerenti tossici dannosi sono esclusi sicuramente petrolati sicuramente i parabeni eccetera eccetera senza OGM senza radiazioni iodizzanti e con parti vegetali e animali però attenzione c'è anche una certificazione vegan oppure c'è quella della LAV quella antivisizione qui non è detto che quindi oltre a questo tipo di certificazione che sia un cosmetico bio ma ci sono appunto dei consumatori attenti anche a questo altro tipo di garanzie e quindi che sia stato prodotto senza fare test su animali c'è questo tipo di certificazione che si aggiunge e poi anche quella della vegan quindi con prodotti derivati vegetali allora e quindi chiaramente il marchio ICEA garantisce dedica controlli eccetera per garantire appunto la qualità di questi prodotti è un marchio volontario e quindi anche questo è un tipo di certificazione utile per chi fa chi ha la struttura turistica naturalmente dovrebbe utilizzare appunto prodotti derivanti dalla biocosmesi a maggior ragione e vi parlavo della stop animal testing love e un altro tipo di vedete il simbolo del coniglio eccetera ICEA fa la certificazione anche questo tipo di certificazione ossia stop animal testing controlli da ICEA per love numero quindi chi si fregge di questo marchio viene controllato da ICEA anche per questo aspetto be all wellness bio wellness invece riguarda le beauty farm le spas e i centri di fitness ci sono degli standard chiaramente anche per questo se voi andate sul sito di ICEA e cliccate sull'argomento bio wellness potete scaricarvi questi standard quindi gli standard considerano i seguenti aspetti la cura del corpo e personale l'interazione quindi tra le persone e l'ambiente relazione umane e cura del consumatore e quindi gli standard promuovono un approccio globale alla persona e la sua condizione educazione allo stile di vita salutare l'uso di prodotti organici e amici dell'ambiente e quindi cibi bevande prodotti per la cura del corpo per la cura della persona prodotti per l'igiene personale e per la casa la detersione della casa molto importante rispetto dell'ambiente preservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente un conscio e ambientalmente sostenibile uso delle risorse naturali e quindi poi anche la preparazione dello staff attraverso un training quindi formazione quindi ogni centro certificato deve avere questi requisiti essere localizzato lontano da punti in cui c'è una forte quindi aree che sono a rischio chimico elettromagnetico e di rumore quindi lontano da fonti di inquinamento chimico elettromagnetico e di rumore quindi rispettare l'ambiente quindi fornire degli elementi che siano confortevoli per il consumatore un uso nazionale delle risorse naturali però vedete comunque lo schema è simile a quello dell'ecobioturismo cioè gli indicatori gli impuls sono sempre gli stessi quindi ridurre l'acqua il consumo di energia il riciclo a managing ornament e attenzione anche alla tutela e al ripristino delle aree verdi è importante anche quello che tu hai di aree verdi nella tua struttura che sia fatto in maniera rispettosa sempre dell'ambiente è importante anche questo come curi il tuo giardino cioè nella tua spa nella tua struttura cosa utilizzi è molto importante spesso è un controsenso allora io faccio agricoltura biologica poi alla fine tratto indiscriminatamente faccio dei disservi sto dicendo cosa utilizzo dei prodotti che avvelennano nel giardino quindi anche nella cura del giardino delle aree verdi devo stare attenta a quello che uso offrire quindi offrire quindi un trattamento pieno full treatment vi passi l'inglese forse è meglio faccia e corpo con prodotti bio certificati con la biocosmesi quindi utilizzo anche nella spa di prodotti utilizzati e quindi certificati dalla biocosmesi utilizzare detergenti che siano appunto ecocompatibili fornire cibo e bevande dall'agricoltura biologica praticamente organizzare lo staff attraverso un sistema di identificazione devo investire sulla formazione dello staff e l'ecobioturismo e l'ecobioturismo di cui parliamo ecological building quindi ICEA e ANAB sviluppano metodi e processi per la produzione di costruzioni molti materiali che voi utilizzate sicuramente che vengono utilizzati hanno questa certificazione quindi se poi andate sul sito di ICEA avrete notizia di tutti i prodotti che si freggiano della certificazione Ecological Green Areas questo riguarda il progetto LandMed una certificazione per i tecnici che si occupano di ecosistemi urbani quindi giardini pubblici e parchi ecosistemi semi naturali parchi rurali giardini storici botanici parchi a tema giardini a tema eccetera con una tipica botanica turistica e quindi un'attenzione alla botanica alla natura alla caratteristica naturalistica e del paesaggio del bacino mediterraneo quindi legato alla nostra ubicazione quindi è molto interessante LandMed come il tessile organico naturalmente e la espressività sociale di impresa il fair trade quindi commercio solidale quindi c'è una bella offerta ok però detto questo veniamo a noi parliamo dello standard dell'ecobioturismo ok allora la certificazione ecobioturismo ICEA valorizza le strutture turistiche che offrono ospitalità quindi è dedicato alle strutture turistiche e propongo l'attività nel rispetto alle risorse naturali culturali e sociali attraverso che cosa agricoltura biologica la tutela degli ecosistemi e la conservazione della biodiversità quindi l'ecobioturismo deve essere prima di tutto un'azienda agricola biologica o comunque un hotel o ristorante che utilizzi prodotti dell'agricoltura biologica e che con la sua attività permette la tutela dell'ecosistemi e la conservazione della biodiversità quindi viene monitorata l'azienda viene inquadrata in tutti gli aspetti in modo che rientri nello standard allora vediamo questo standard il turismo che ICEA certifica è quindi che cosa turismo sostenibile perché promuove l'agricoltura biologica e tutela l'ambiente scegli energia proveniente da fonti rinnovabili ci sono delle domande apposite quando noi andiamo poi a verificare la vericità perché vi è fatto un audit allora l'azienda stila dice quello che fa il controllore va e verifica la vericità poi ci sono dei punti man mano c'è una checklist e noi andiamo a sondare i vari punti per vedere se nello standard e andiamo nel merito delle cose che uno fa se quanto dell'energia che lui consuma rientra da fonti rinnovabili eccetera eccetera poi andremo a fondo vi faccio vedere la checklist si capisce meglio ecco vedendo dal vivo le cose è più facile capire ci sono degli standard obbligatori che devono essere rispettati e poi dei requisiti facoltativi quindi turismo sostenibile perché promuovere l'agricoltura quindi perché promuove come ho detto sceglie energia proveniente da fonti rinnovabili valorizza la mobilità sostenibile promuove la raccolta differenziata il riciclo riutilizza l'acqua piovana e reflua sceglie prodotti della bioedilizia e offre ai propri ospiti prodotti del tessile biologico e prodotti di eco cosmesi e detergenza pulita un turismo responsabile perché mette in primo piano luoghi e tradizioni delle comunità locali ospitanti valorizzando il loro patrimonio storico artistico e culturale un turismo che promuove strutture ricettive ridotte in impatto ambientale e che non abusano delle risorse ambientali a vantaggio dell'offerta di servizi turistici è chiaro no? un turismo per le persone e le famiglie che scegono un modello di vita sano grazie al requisito obbligatorio dell'alimentazione a base di ingredienti agricoltura biologica e attento alle tradizioni enogastronomiche locali il marchio eco bioturismo ICEA offre visibilità alle aziende certificate in che maniera c'è un portale www.eco-turismo.it quindi chi è certificato con questo standard automaticamente rientra l'inserito nel portale con una scheda quindi chi va cerca qualcosa o per regione riesce comunque a trovare queste aziende inserite nel circuito quindi con l'inserimento delle aziende certificate nella newsletter del settore viene fatta la newsletter con l'inserimento delle strutture certificate in guida e pubblicazione di settore di grande prestigio infatti vengono sempre proposte quindi si fanno nelle riviste o nelle guide di settore noi ci siamo ecco o vengono pubblicate delle guide ad hoc con l'esivazione di convenzioni per la promozione del settore vedasi l'accordo con Arci Naturasia eccetera con la partecipazione a fiere e feste e le manifestazioni per esempio Itaca questo è il marchio quindi se trovate questo tipo di marchio certificato licea ecobioturismo vuol dire che risponde ai requisiti di questo standard ok questo invece è l'indice standard ecobioturismo quindi parliamo della struttura dello standard quindi a campo di applicazione aree tematiche requisiti obbligatori e facoltativi calcolo della classe di merito modalità per l'aggiornamento della classe di merito e la classe di punteggio e si perché comunque non basta rispondere ai vari requisiti ma poi bisogna avere una graduatoria ed è rappresentata dai soli 1, 2, 3, 4, 5 sole a seconda della categoria come le stelle degli alberghi però riferite a questo tipo di standard quindi struttura dello standard del co-bioturismo quindi campo di applicazione come vi dicevo già prima lo standard si applica quindi alle principali tipologie di strutture turistiche agriturismo bed and breakfast hotel e camping quello della bioristorazione è un altro settore non trovate il ristorante ok quello è un altro tipo di aree tematiche lo standard si compone di 5 aree tematiche e si perché dobbiamo capire come inquadrare l'azienda e allora ci sono delle aree tematiche che vanno a vedere a toccare i vari punti come degli indici e quali sono queste 5 aree tematiche tutela dell'ambiente e le risorse naturali gestione ecologica delle strutture ricettive promozione della cultura locale ristorazione biologica e mobilità sostenibile a queste si aggiunge una sesta accoglienza bio che parte della gestione ecologica delle strutture allora come vi dicevo già prima per ciascuna delle aree tematiche sono stati definiti requisiti obbligatori e requisiti facoltativi gli obbligatori sono necessari altrimenti non sei nello standard quelli facoltativi servono a dare il punteggio aggiuntivo non sono meno importanti però ok i requisiti obbligatori corrispondono ai criteri minimi che devono necessariamente essere osservati rispettati al fine di poter ottenere la certificazione e la licenza ad uso del marchio ecobioturismo il possesso di requisiti obbligatori equivale all'attribuzione del livello di classificazione minimo previsto un sole requisiti facoltativi la cui servanza non è obbligatoria e che concorrono alla formazione del punteggio utile per la determinazione della classe di merito dal secondo al quinto sole allora calcolo della classe di merito ciascun requisito facoltativo è associato a un punteggio che va in relazione al livello di conformità corrisponde 0 non sufficiente 1 soddisfacente 2 più che soddisfacente il punteggio ottenuto dai requisiti facoltativi che l'operatore ha deciso di osservare concorre alla determinazione della classe di merito la quale è espressa dal numero di soli vanno da 1 a 5 quindi 5 è il massimo quindi se poi andate nel sito dell'ICEA a quello del portale del ecobioturismo vedrete che a ogni azienda che lì è iscritta in quanto ha il marchio il vice del marchio dell'ecobioturismo esiste una categoria una classificazione quindi che può orientare nelle scelte quindi è un po' complicato il discorso del calcolo della classe di merito ve lo do al volo perché poi alla fine insomma non posso andare dentro a queste cose quindi l'attribuzione della classe di merito viene innanzitutto calcolato il punteggio totale dell'area tematica quindi ci sono le varie aree abbiamo visto quali sono le 5 aree e un PTA pari alla somma dei punteggi relativi ai requisiti facoltativi soddisfatti della specifica area tematica quindi il PTA viene utilizzato per determinare il punteggio affettivo attribuito all'operatore turistico per ciascuna area tematica che in termini percentuali la prestazione del turismo rispetto a ogni singola area e quindi il PTA viene calcolato portando su base a 100 il PTA proseguito in ciascuna area in relazione al punteggio massimo acquisibile per ciascuna area quindi c'è un calcolo poi inoltre ad ogni area tematica associato a un fattore di ponderazione in ragione della sua rilevanza in accordo alla seguente scala c'è un punteggio che poi dipende dal peso che si dà a quell'indice diciamo a quel risultato a quel quindi si dà un peso alla importanza seconda che è molto rilevante più che rilevante rilevante meno rilevante il calcolo della classe di merito sarà pari alla media ponderata dei PTA calcolata da ciascuna area tematica alla fine si ha un punteggio finale quindi se successivamente quindi attribuzione dei punteggi relativi ai requisiti facoltativi se successivamente attribuzione della classe di merito si sono verificate modifiche tali da incidere sul punteggio complessivo è vero io vengo classificata con quel punteggio ma ho la possibilità di recuperare perché poi il titolare può richiedere presentando adeguata documentazione attestando le migliorie eseguite una nuova valutazione e un aggiornamento della stessa classe di merito esempio io ho un'azienda che ho ancora dei vecchi infissi quindi dal punto di vista della classe energetica sono proprio a zero cioè non però io poi dimostro faccio dei lavori delle migliorie il mio indice si riduce accedo alla classe di merito superiore c'è un riesame diciamo lo posso fare però devo dimostrare quello che ho messo in atto per poter poi rientrare ecco qui quindi questa è praticamente una tabella numero di soli requisiti coltativi meno di 20 uguale a 22 soli maggiore di 40 uguale a 43 soli vabbè 64 soli e più di 80 i 5 soli ok allora adesso invece andiamo a vedere praticamente ok questi sono i requisiti facoltativi andiamo invece a quelli e vediamo se ci sono quelli obbligatorie eh sì ok vi ho detto appunto vi ho parlato di requisiti obbligatorie e facoltative vediamo quali sono quelli obbligatorie allora tutela nell'area tutela dell'ambiente e delle risorse naturali abbiamo agricoltura biologica paesaggio e biodiversità verde ornamentale ricreativo la seconda area gestione ecologica delle strutture ricettive inquinamento indoor riduzione consumi energetici per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo riduzione consumi per impianti illuminazione e apparecchi elettrici contenimento dei consumi idrici riduzione corretta raccolta dei rifiuti informazione e sensibilizzazione degli ospiti terza area promozione della cultura locale quarta area ristorazione biologica alimentazione bio quinta area mobilità sostenibile favorire l'impiego dei mezzi pubblici è duretta però allora vediamo la tutela dell'ambiente e le risorse naturali agricoltura biologica l'organizzazione è tenuta attuale il metodo dell'agricoltura biologica quindi non puoi fare integrato non puoi fare devi necessariamente utilizzare quindi se sei un hotel devi utilizzare prodotti derivanti dell'agricoltura biologica se non sei azienda agricola che produce l'agriturismo necessariamente che è azienda agricola deve essere certificata bio per noi l'834 è la base di tutto è la certificazione standard l'834 sta per il regolamento dell'agricoltura biologica nella gestione dell'azienda agricola e dell'attività di trasformazione agroalimentare se fa prodotti trasformati deve attonersi sempre al regolamento 834 e si perché anche nella trasformazione nel regolamento 834 ci sono delle indicazioni strette per esempio un prodotto trasformato per essere bio deve avere almeno il 95% di prodotti di origine agricola e di agricoltura biologica altrimenti puoi scrivere olio bio marmellata bio e chi la più ne metta negli additivi e negli praticamente nei fattori diciamo di di produzione nei mezzi che utilizzo per la produzione devo rientrare in un elenco ci sono delle sostanze in una lista positiva di sostanze ammesse tutto quello che non c'è vuole che non si può usare e che rientrano nella 5% quindi vedete bene quindi non solo devo usare prodotti tal quale bio ma anche il prodotto trasformato deve essere bio e si deve attenere a quel regolamento e quali sono gli indicatori l'organizzazione di certificazione autorizzata perfetto tu ti fai infatti non è detto che il nostro standard lo possiamo dare fornire certificare anche aziende che non sono certificati CEA perché pensate nell'ambito dell'agricoltura biologica ci sono quasi solo gli organici controlli 12 13 14 c'è un'ampia offerta diciamo non siamo soli ecco però noi offriamo questo standard aggiuntivo l'ecobioturismo a chiunque si voglia associare paesaggio e biodiversità l'organizzazione è tenuta ad adottare misure idonee in considerazione della caratteristica del territorio a mantenere e reintrodurre gli elementi naturali caratteristici e gli agroecosistemi tipici quali sono i indicatori superficie aziendale lasciata come abita naturali rinaturalizzati e corridori lineari maggiore o uguale al 5% delle fasce tampone naturali necessarie perché molto importanti perché molti organismi utili e molte specie in via di estinzione botaniche e anche animali trovano rifugio in queste aree tampone che sono importantissime non possono essere inferiori al 5% magari più del 5% verde ornamentale ricreativo le aree di verde ornamentale ricreativo giardini parchi tappeti erbosi siepi non possono essere gestite secondo i criteri di agricoltura biologica quindi non puoi produrre bio in agricoltura e puoi avvelenare il giardino indicatore aree di verde ornamentale ricreativo gestite d'accordo ai criteri definiti del regolamento UE 83407 in materia di agricoltura biologica gestione ecologica delle strutture ricettive quindi è la seconda area inquinamento indoor l'organizzazione è tenuta a minimizzare i rischi di inquinamento dell'aria negli ambienti confinanti quali sono gli indicatori il fumo qualora non sia completamente vietato è rigorosamente limitato in aree apposte da attrezzati l'accordo normativa vigente le pitture murali praticamente utilizzate per rinnovare le camere e gli spazi in generale non rilasciano sostanze pericolose provvisi di certificazioni arabice oppure le colabel o o le due certificazioni o e e ma a volte non è le e ne vi evidenza che gli arredi sono realizzati con materiali con nulla o bassa emissione di formaldeide e cov andiamo avanti riduzione consumi energetici per riscaldamento invernale e raffrescamento estivo l'organizzazione è tenuta a ridurre i consumi energetici per la criminalizzazione invernale ed estiva degli edifici gratendo al contempo un adeguato confort eh sì cioè io non posso poi fare in modo che il turista d'estate muoia di caldo però devo stare attento a quanto consumo e quali sono gli indicatori le caldaie generazioni di calore ad acqua calda alimentate con composti di liquidi o gassosi devono avere un rendimento minimo del 90% l'impianto di riscaldamento è dotato di dispositivi di regolazione automatica e termostatica con riduzione del riscaldamento nelle ore notturne e regolazione separata nelle varie ali dell'edificio gli impandi di condizionamento presentano un'efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva la 31 del 2002 le finestre presentano un livello di isolamento termico adeguato e le condizioni climatiche locali e un livello adeguato di isolamento acustico le operazioni di controllo e manutenzione sono state sono svolte annualmente da un tecnico abilitato l'organizzazione rileva controlli dati sui consumi per riscaldamento una domanda è tu quanto consumi per riscaldamento riduzione consumi per impianti illuminazione e apparecchi elettrici l'organizzazione è tenuta a ridurre i consumi di energia elettrica pensiamo all'altro argomento indicatori almeno il 70% di tutte le lampadine installate nella struttura deve presentare un'efficienza energetica di classe A ai sensi della direttiva la 11 del 98 almeno il 75% degli elettrodomestici frigorifero e congelatori hanno efficienza energetica minima di classe A ai sensi della direttiva europea 2 del 94 l'organizzazione rileva e controlla i dati sul consumo di elettricità kilowattora è una domanda che io faccio poi nella checklist quanto consumi contenimento dei consumi idrici ecco un altro punto l'organizzazione è tenuta a ridurre i consumi idrici quali sono gli indicatori che si usano e il problema infatti è quello capire come puoi misurare io dico sì contengo come faccio comunque si è cercato di creare appunto una serie di indicatori da cui attingere questa informazione perché è bello dire io faccio però poi bisogna misurare e dimostrare quello che si fa l'organizzazione ha adottato procedure e pratiche per il monitoraggio periodico la motenza di tutti i puti di rilievo non ci devono essere perdite la prima cosa che devo fare è quello controllo che non ci siano delle perdite rubinette docci sciacqui del vc tubi tutto è importantissimo l'efficienza dell'impianto idrico a volte sono strutture antiche magari con dei vecchi tubi con perdite ah quello sicuro lo sappiamo lo sappiamo eh sono una piccola cosa e lo so però io che sto poi a valle purtroppo devo rispondere delle mie azioni quello è sicuro ma a monte si sa che ci sono le voragini quello è sicuro però te lo chiede anche lo standard dice perché non è il consumo di persone ma è l'ottica che tu hai no assolutamente no purtroppo no quelli non si sono i mostri sacri non si toccano però ti fa capire l'azienda che hai di fronte cioè la devi inquadrare in uno standard rigido fa piacere l'organizzazione rilieva e controlla i dati sul consumo di acqua in litri quindi tu devi dire quanto consumi cioè date alla mano le bollette voglio vedere è normale no l'organizzazione installato dei rubinetti e doccia apposì a aeromiscelatori che evitano il flusso di acqua non più di 8,5 litri al minuto anche io ormai a casa adotto queste tecniche cioè voglio dire lo faccio io lo deve fare anche la struttura turistica che si fregge di questo non è difficile le tasse servici hanno un consumo di acqua di 6 litri e dispone dispositivi di bloccaggio del doppio tasto gli urinatoi quando presenti da noi non lo so nelle nostre strutture hanno la camera con bagno non è la sua però hanno inserito anche questa cosa quando presenti montano dispositivi di risciacquo automatico che consentono il risciacquo di un numero massimo di 5 urinatoi gli asciugamani nelle camere da letto vengono cambiati solamente quando richiesto dal cliente eh sì lo mettono tutti ormai e poi sarà il nostro a noi che siamo clienti che è il cliente la coscienza di poi riduzione corretta raccolta dei rifiuti l'organizzazione è ritenuta adottare misure volte prioritariamente alla riduzione della qualità dei rifiuti prodotti nonché a gestire correttamente la raccolta differenziata in che maniera vediamo gli indicatori non vengono state tovaglie piatte bicchieri usaggetta il loro uso è ammesso unicamente quando si impiegano prodotti materiali biodegradabili e compostabili comportabili no è compostabile in caso di eventi che richiamino molte persone quindi dovete usare le ceramiche comunque nei bagni non devono oppure materiali compostabili nei bagni non devono essere utilizzati a meno consiglia richiesto dalla legge prodotti per l'igiene del corpo monodose o monouso shampoo saponi cuffie per la doccia eccetera nei bagni sono usati bicchieri di vetro a posto di quelli di plastica attenzione quando disponibili sul mercato locale vengono usati vuoti arrende per alimenti e bevande vediamo invece gli indicatori per la riduzione dei rifiuti raccolta a differenza dei rifiuti vengono sistematicamente separate tutte le tipologie di rifiuti sono a disposizione degli ospiti in reale comuni sale da pranzo e bar appositi contenitori per la raccolta a differenza di carta vetro plastica e lattine viene effettuato dove è possibile il compostaggio di rifiuti organici una bella compostiera va benissimo per tutti è anche una cosa simpatica anche per gli ospiti l'ospite si sente cioè se tu fai informazione all'ospite si sente subito coinvolto non è vero che poi non cioè l'esempio l'educazione vince indicazioni anche perché l'ospite che si rivolge a questo tipo di strutture vuole quello è attento proprio a queste cose collabora e appostarla per questo indicatori di acquisti verdi la carta igienica e le salviette nonché la carta per fotocopiatrice e stampanti sono di carta riciclata ecologica ecolabel fsc e pfc che sono le certificazioni sul legno sostenibile i materiali informativi e pubblicità dei prodotti in carta riciclata o ecologica certificata sono preferiti i prodotti riciclabili e imballati con materiale riciclato informazione e sensibilizzazione degli ospiti l'organizzazione è tenuta a informare i propri ospiti delle misure ambientali messe in atto nonché a promuovere azioni volte e sensibilizzare i propri ospiti sui comportamenti e che possono consentire la riduzione dell'impatto ambientale gli indicatori gli ospiti sono informati su iniziative ambientali mediante brochure poster video internet eccetera quindi l'importante è l'informazione è disponibile il materiale informativo adeguato per la sensibilazione degli ospiti al risparmio energetico nei bagli e le toalette sono presenti informazioni adeguate che illustrano come contribuire al risparmio idrico vedasi indicazioni pure sul fatto che voi avete ben notato in molti alberghi ormai c'è della dicitura se mi poggi a terra vuol dire che devi cambiare oppure l'asciugamano sta là fino a quando non è ok nelle stanze sono informazioni facilmente accessibili che invitano gli ospiti a raccolti differenziati rifiuti e che forniscono indicazioni sulle misure messe in atto vi posso dire che si va materialmente nelle stanze e va a vedere cosa c'è scritto effettivamente lo standard poi funziona così l'audit cioè materialmente devi andare a vedere verificare la vericità di quello che è stato detto eh? no no dal vivo senza preavviso ma senza preavviso no ma anche allora secondo me uno si è abituato a agire in una certa maniera o che avviso non preavvisi quello continua a fare sempre le stesse cose lo becchi comunque è chiaro che poi magari senza preavviso magari il problema qual è? io posso dire quello che voglio nel momento in cui c'è l'audit bisogna dire quando è operativo quando sta svolgendo un'attività andare in quel momento è che è importante no ma non è quello no non è così no io dico per esempio io faccio ristorazione faccio ristorazione allora io dico che non uso piatti e cose useggette deposate useggette io invece voglio andare e può succedere però questa segnalazione la fa il consumatore la può fare tranquillamente e dice scusami CEA perché loro poi espongono il marchio ma quello quando io sono andata là un giorno e invece di servire nei piatti di ceramica usava l'useggette di plastica e si fanno le segnalazioni diversamente è una presa in giro per tutti quindi deve essere poi chi usufrisce del servizio che eventualmente fa le segnalazioni giusto no? siete sicuri? dipende magari non faccio il servizio ma anche il fatto di utilizzare dei bicchieri di plastica lì quando ti danno l'acqua a volte usano i bicchieri di plastica tipo ti offre il caffè no anche nei servizi di ristorazione che si freggiano di questo marchio ti do il bicchiere di plastica no non va bene quindi promozione della cultura locale è molto importante per noi è importante anche questo no è importante per tutti l'organizzazione promuove la conoscenza della cultura locale se io vado in una zona e sono da un'altra e vengo in un'altra zona pensiamo alla portocittà campagna per esempio io vado là per uno scambio culturale voglio conoscere la cultura per me è importante quello è valore aggiunto tu porti via dal viaggio non oggetti ma esperienze conoscenza di altre persone e ti arricchisci culturalmente da questo l'organizzazione mette a disposizione degli ospiti materiali informativi sugli elementi costruttivi cosiddetti della cultura locale pubblicazioni sui luoghi di interesse storico cioè noi dobbiamo andare a verificare se effettivamente ci sono queste pubblicazioni manuali guide e che si ne ha appena emessa metta culturale e ambientale a visitare per esempio c'è una di turismo non faccio il nome ecobioturismo e sta vicino alle grotte di Castellana è chiaro che lui deve proporre delle guide a tema e cercare di spingere il turista a prescindere dal fatto che la grotta di Castellana sia o meno in un sito e vabbè non entro in merito delle cose oppure sto vicino ai trulli di Alberobello che ne so devo dare del materiale per fare in modo che il turista sia informato di questo e lo spingo a visitare a conoscere il mio territorio programmi di manifestazione e iniziative culturali c'è il museo oppure c'è il concerto organizzato della filarmonica che ne so io devo fornire queste indicazioni ed è obbligatorio il quesito è obbligatorio percorsi naturalistici storici e culturali eccetera quindi un'iniziativa come la vostra rientrerebbe nei percorsi eccetera quello che voi fate è quindi gli ecobioturismi dovrebbero fornire indicazioni sulla vostra attività se no che ecobioturismi sono? o no? ora dopo alimentazione bio organizzazione tenuta a offrire una risolazione con prevalenza di prodotti di agricoltura biologica vediamo gli indicatori quali sono come faccio a capire che sono nello standard ok nella composizione del menu sono impiegati alimenti e ingredienti di agricoltura biologica come se sono almeno pari uguale almeno uguale al 51% del totale degli ingredienti calcolati in peso e su basse settimanale nell'ambito di questa quota rientra anche il pesce d'acquacoltura biologica gli alimenti e gli ingredienti di agricoltura biologica devono essere chiaramente indicati nel menu di nuovo deve essere servita acqua dell'acquedotto e ha messo l'uso di acqua minerale a condizione che sia disponibile in contenitori di vetro e dove disponibile a rendere che provenga da fonti presenti nella regione in cui è obbligata la struttura turistica in regioni confinanti il menu deve presentare pietanze tipiche della cucina locale o regionale il menu deve presentare proposte per vegetariani e nella somministrazione di alimenti e bevande devono essere impiegati i prodotti aziendali almeno nella misura prevista dalle varie leggi regionali i prodotti reperisti presso aziende agricole locali e aziende alimentari locali che producono e vendono prodotti di agricoltura biologica al 152% mobilità sostenibile favorire l'impiego di mezzi pubblici quindi l'organizzazione è tenuta a favorire e incoraggiare i turisti che decido di impiegarli in mezzi pubblici e mezzi di trasporto non motorizzati avete un parco bici avete le gambe eh perfetto percorsi per spostarsi all'interno del territorio e per andare alla scoperta dei suoi tesori indicatori nel web e nel materiale pubblicitario devono essere disponibili le informazioni su come arrivare nella località utilizzando i mezzi pubblici e mezzi non motorizzati all'interno della struttura sono disponibili informazioni sui servizi di trasporto pubblico utili per visitare il territorio e questi sono quelli obbligatori questo già per molti è uno scoglio quindi è stretto come standard non è molto largo ok quali sono quelli facoltativi sono sempre le aree sono sempre le stesse tranne l'ultima la quinta non c'è vedete la prima area è tutela dell'ambiente risorse naturali gestione ecologica e strutture ricettive promozione sociale e cultura locale risolazione biologica andiamo avanti ok educazione ambientale importante è nei requisiti facoltativi ma non è meno importante questo allora chi risponde a quelli obbligatori ha il sole però per avere gli altri soli fino al quinto bisogna essere nei requisiti facoltativi allora per quanto riguarda ripeto l'educazione ambientale gli indicatori sono i seguenti l'organizzazione ha predisposto laboratori didattico dimostrativi sul metodo dell'agricoltura biologica e programmi per le scuole l'organizzazione ha allestito un percorso naturalistico adeguatamente segnalato e tabellato con la descrizione degli alimenti naturali da osservare l'organizzazione mette a disposizione dei propri ospiti strumenti e mezzi per l'osservazione della flora e della fauna binocoli canocchiali lenti di ingrandimento capani per il bird watching eccetera e di guide e di guide di identificazione della flora e della fauna locale spesso hai anche un dialogo quando vai a fare l'audit hai modo di parlare con l'operatore e dire si vabbè tu adesso non ci sei con queste cose non hai la possibilità di implementare qui c'è uno scambio anche di comunicazione cioè è anche una collaborazione è vero che io comunque ti devo inquadrare però ti lascio anch'io possibilità di miglioramento e quindi spesso vedo che se torno a distanza di tempo qualcosa cambia comunque chi aderisce a questi standard sono sempre comunque delle persone che vogliono comunque ci credono non so almeno quelli che mi è capitato di valutare o comunque di sono sempre state delle persone motivate convinte che vogliono migliorare si fanno profitto però lo fanno in maniera sono sempre un po' lontani da quello che noi vediamo generalmente vi posso dire che il livello è alto è gente motivata lo fa lo fa se capisce che deve migliorare su qualcosa lo fa si impegna poi paesaggio vedete poi ci sono dei punteggi qui buono sufficiente insufficiente buono sufficiente insufficiente perché io posso valutare poi il grado insufficiente quando proprio non ci siamo sufficiente oppure buono quando è questi sono i pesi praticamente che poi io ci metto che applico paesaggio e biodiversità indicatori l'organizzazione alleva animali o coltiva specie vegetali locali a rischio di estinzione pensiamo appunto come vi dicevo all'inizio le specie vegetali semi di ortaggi antichi semi di grani antichi legumi o quant'altro frutti antichi oppure animali tipo penso per esempio alla pecora gentile di Puglia è una razza antica di pecora quando da noi era prevalente nella murcia l'allevamento della non c'era la zoidecnia dei bovini l'allevamento bovino c'era la podolica per carità però prevaleva l'allevamento delle pecore e alcune specie razze sono a via di estinzione penso all'altamurana che era una pecora che veniva allevata per la produzione della lana da materassi perché una volta i materassi venivano fatti di lana oppure la gentile di Puglia che dà una lana fine penso a questo oppure l'allevamento del cavallo murgese la podolica pugliese eccetera eccetera questo è molto importante il paesaggio e la biodiversità rientra in queste aree l'organizzazione ha preservato e creato ambienti naturali variamente strutturati con funzione di collegamento paesaggistico ecologico o per garantire la sopravvivenza e la riproduzione della flora e della faro selvatica basterebbe tutelare i muretti a secco per avere questo i muretti a secco perché il muro a secco crea dei microambienti dove la fauna e la flora vanno a concentrarsi nascono le specie arboree i cespugli e spesso presso i muri a secco quando non diserbano possiamo ammirare ancora la fioritura di orchidee selvatica certo perfetto certo certo per noi è importante quando un campo ha i muri a secco è fondamentale proprio perché crea biodiversità è punto in cui si forma sempre biodiversità sì sono bellissimi ok gestione ecologica delle ricettive riduzione dei consumi energetici bilancio energetico quindi sono gli indicatori bilancio energetico per la verifica dei consumi invernali dell'edificio l'indice energetico in kilowattora metro quadro anno secondo la normativa UNIEN 832 2001 è l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo di sistemi fotovoltaici e olici o microidro elettrici soddisfa il fabbisogno per qui ci sono poi quindi da 0 a 30 il primo indicatore non il bilancio energetico 2 31,50 1 0 più di 51 poi l'energia elettrica prodotta soddisfa il fabbisogno per 50% 20,50 meno del 20 0 l'energia quindi prende pari pari l'energia prodotta da sistemi di riscaldamento a biomasse ad alto rendimento soddisfa il fabbisogno per il più del 50 2 10,50 1 meno del 10 0 l'impiego di tecnologie geotermiche per la climatizzazione invernale ed estiva soddisfa il fabbisogno per il più di 50 10,50 meno di 10 l'acqua calda sanitaria prodotta con l'utilizzo di collettori solari soddisfa il fabbisogno per il più di 50 10,50 e meno di 10 per cento contenimento dei consumi idrici indicatore la percentuale di acqua proveniente da captazione accumulo filtraggio distribuzione dell'acqua meteorica in rapporto al fabbisogno è più di 50 2 10,50% 1 meno di 10 0 la percentuale di acqua proveniente da recupero depurazione accumulo distribuzione dell'acqua grigie in rapporto al fabbisogno è più di 50 10,50 meno di 10 l'accoglienza bio indicatori nei bagni delle camere sono presenti shampoo e altri prodotti certificati biocosmesi le lenzuole gli acciugamani sono prodotti certificati fibra testi natura ed agricoltura biologica se li lavo io ok ma se poi se mi affido a delle ditte che mi forniscono purtroppo gli acciugamani quant'altro spesso lo si fa purtroppo non ho la possibilità di rientrare in questo purtroppo non hai anche strutture quelli che affittano appunto le lavanderie industriali non ti danno affidamento non so penso anche a questo promozione sostegno della cultura locale rapporti con il territorio indicatori si organizzano manifestazioni eventi anche collaborazioni con altri enti sia importante anche questo cioè io come con la mia struttura mi relaziono col territorio collaboro con le altre associazioni con le associazioni collaboro con gli altri o con gli enti col comune chi ne ha più ne metta volte a valorizzare il patrimonio ambientale storico e culturale è importante sapere se io partecipo e che ruolo ho si organizzano in azienda cioè se sono molto coinvolto poco coinvolto meno coinvolto infatti vedete A1 A2 B1 B2 ci dà praticamente il modo di capire quanto sei coinvolto quanto dai quanto tu ti relazioni agli altri se organizzano in azienda corsi di artigianato tipico o connessi all'attività rurale l'organizzazione sostiene vedete giù c'è A manifestazione a progetto molto rilevante c'è un indice manifestazione a progetto importante C manifestazione a progetto poco rilevante 1 dice ruolo primario in un'organizzazione o sostegno economico fondamentale ruolo secondario in un'organizzazione ruolo marginale quindi l'organizzazione sostiene economicamente progetti di natura locale tese al miglioramento e alla protezione dell'ambiente dell'area in cui la struttura si trova inserita risolazione biologica allora promozione del patrimonio enogastronomico quali sono gli indicatori gli alimenti e gli ingredienti ritornano il 51% le cultura biologica superano la misura minima del 51% e sono pari a cosa? nella somministrazione di alimenti e bevande sono introdotti i prodotti del commercio equo solidale in misura 15-5% si organizzano in azienda corsi finalizzati la conoscenza della cucina dei prodotti tipici del territorio per quanto riguarda i prodotti del commercio equo solidale dice maggiore di 15-2 dice ma se io uso prodotti tipici locali faccio chilometro zero cioè dare il 2 a chi usa il 15% di prodotti equo solidale qualcuno ha fatto polemica su questo dice però io in realtà utilizzo prodotti del territorio però il commercio equo solidale si propone sempre il problema del trasporto però comunque noi facciamo usiamo il caffè il tè quindi la cioccolata a volte lo zucchero di canna e quelli sono prodotti del commercio equo solidale quindi si inserisce in quell'ottica cioè offre una colazione o comunque dei prodotti che però vengono dal commercio equo solidale è importante questo oppure il fatto di organizzare in azienda corsi per la conoscenza della cucina prodotti tipici del territorio molte aziende appunto che fanno la rivoluzione dei formaggi cacicavalli eccetera fare la pasta fatta in casa o altre attività la raccolta delle erbe comestibili spontanee eccetera molto importante organizzare corsi di cucina si organizzano in azienda degustazione finalizzata la conoscenza degli aspetti qualitativi dei prodotti tipici degustazione vino oli eccetera e poi mobilità sostenibile favorire la scoperta del territorio con mezzi non motorizzati l'organizzazione rende disponibile per gli ospiti biciclette mountain bike il numero non inferiore a vedete il punteggio 1 a 3 totale ospiti 1 su 5 totale ospiti meno di 1 su 5 totale di ospiti allora è 0 molto importante se io do dei mezzi per favorire il turismo in bici l'organizzazione rende disponibile per gli ospiti misura adeguata rastregliere e un posto riparato in cui parcheggiare le biciclette materiale necessario per eventuali e semplici riparazioni depine ad altro materiale informativo sui percorsi ciclabili l'organizzazione ha attivato un servizio a transfer per i clienti che arrivano nelle località con mesi pubblici tutto l'anno solo in estate a discrezione e questo chiude lo standard si pochissime proprio poche no 3 media 3 3 si 4 no 3 dai non siamo cattivi no però si può fare di più no andate sul sito la troverete tutto per la trasparenza e probabilmente si avete visto non scherziamo non ci scherziamo su queste cose questa è invece la scheda informativa per le strutture turistiche andiamo alla scheda informativa cioè io cosa che io cosa io azienda scrivo denominazione che tipologia persone di contatto cosa sono albergo albergo diffuso agriturismo altro però dice altro qui potreste essere anche voi altro parlate con la referente nazionale del progetto che è Roberta Bartoletti mandate una bella mail e vedete cosa risponde anche perché poi il responsabile è Paolo Foglia che è il referente per quanto riguarda lo standard che adegua e raccoglie input per l'adeguamento dello standard scrivete chiamate parlate chissà che non si riesca a trovare periodo d'apertura l'ospitalità cioè camere eccetera agricampeggio eccetera i prezzi bed and breakfast mezza pensione ristorante facilitazione e raccoglianza di bambini quindi facilitazione e raccoglianza di personale con handicap perfetto sciagliani piccola sì Valle Rita la conosco io la Valle del Rita è praticamente a Ginosa a Ginosa Marina località Pantano e non fate per favore non fate nomi nomi ah ok niente andiamo invece alle tariffe era così importante poi quanto si paga la certificazione quanto costa questo è il contratto ok contratto lo standard eccetera pum 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 voglio vedere il tariffario no il tariffario non me lo da ah si ce lo da allora tariffe per il rilascio della certificazione valutazione di documentazione 250 euro verifica ispettiva 450 euro emissione del certificato licenza d'uso del marchio 300 euro totale 1000 euro costa è costosa però pensate la valutazione all'anno però è costosa anche perché vedete la mole di lavoro che c'è da fare tariffe per il mantenimento questo è l'ingresso no? 1000 euro il mantenimento che richiede quindi un avviso di sorveglianza 450 euro mantenimento del certificato 400 euro 800 euro in tutto quindi 1000 il primo anno 800 negli altri anni ok sono le 18 fino a quando posso andare? e se vi dico al volo il tour cert veloce senza andare e no perché è molto importante perché ho parlato delle strutture ma adesso devo parlare dei tour operator importantissima questa è stata la nuova nata 2011 allora tour cert certification guideline vado veloce veloce ok allora incide insieme a ITR collavo con l'organizzazione tour cert per le certificazioni di unità del turismo responsabile in accordo con la stampa di responsabilità sociale dell'impresa turistica quindi tour operator tour cert è un organismo internazionale di certificazione del turismo responsabile riunisce esperti delle industrie del turismo università associazione ambientalista e ONG impegnate nella cooperazione internazionale quindi viene da esperienze in campo questa certificazione richiede in primis da parte dell'operatore una dichiarazione di responsabilità sociale e ambientale riguardante il tour operator organizzatore di viaggi in tutto il mondo la certificazione del CSR turismo red pubbliche le informazioni cioè se tu ti iscrivi in questa tu sei ti pubblicano i risultati cioè hanno l'obbligo e tu hai l'obbligo di pubblicare chi sei cioè ti devi qualificare per quello che sei quindi se vai giù lo sa tutto il mondo detto proprio quindi è molto rigida sono tedeschi infatti la stella stoccarda tour cert la certificazione del CSR turismo è pubblica informazione degli impatti determinanti dell'agire della società è importante tu quanto impatti che impatto hai con la tua attività e sull'ambiente da parte di un organizzatore di viaggi cioè quanto è impattante l'attività di un tour operator l'elenco del tour operator certificato è disponibile su questo sito www.tourcert.org vi consiglio di andare obiettivo si però tutti in inglese gli standard quindi è facile da capire e tradurre obiettivo del marchio CSR che vuol dire corporate social responsabilità sociale di impresa è la valutazione esterna della redicotazione in termini di CSR dei tour operator cioè un ente esterno ti certifica vuole vedere chi sei la vericità di quello che tu dici la risposta ai requisiti minimi di responsabilità sociale il perseguimento sistematico di obiettivi in campo sociale e ambientale quindi quanto consumi come impatti sull'ambiente e quanto dai in termini di sviluppo locale sulle società e sulla popolazione locale e sui tuoi dipendenti nell'attività core business degli operatori turisti devi fare profitto ma vediamo come lo fai a spese di chi quanto consumi cosa consumi cosa fai basato sull'esperienza della CSR reporting di istituzione in turismo è stato sviluppato un avanzato sistema di certificazione che comprende alla base c'è un modello di report un rapportino delle mie attività un programma per il miglioramento perché io devo avere un programma di miglioramento non è detto che sia perfetto ma posso lavorare devo impegnarmi nel lavoro di miglioramento è un sistema di gestione centrato sulla CSR responsabilità sociale di impresa alla base del processo di certificazione viene la dichiarazione di responsabilità sociale il cosiddetto sustainability report da parte dell'azienda organizzatrice di viaggi quindi tour aperetto che contiene informazioni ambientali e sociali predisposte sulla base di un modello predefinito il core context indicators che consente il confronto tra prodotti che sono di sfumamente di sua funzione un tour aperetto della stessa categoria viene confrontato con l'altro tour aperetto della stessa categoria e uno scegli in base a quello che ha requisiti migliori nella piena trasparenza tu puoi scegliere vedi chi sei cioè chi puoi sfruttare il servizio vede e confronta il modello di dichiarazione previsto da CSR turisti articoli in otto aree e per ciascuno sono stati introdotti specifici indicatori di performance e di impatto le certificazioni funzionano tutte nella stessa maniera avete visto no? le aree quali sono profilo dell'impresa politica aziendale per la sostenibilità responsabilità verso i clienti rispetto dell'ambiente rispetto dei diritti sociali sviluppo del capitale umano la risorsa umana quindi i propri dipendenti responsabilità sociale li assicuro gli do il giusto compenso sostenibilità dei fornitori ma quelli che mi forniscono il materiale ma rispondono agli standard importante chi fornisce programmi di miglioramento l'azienda che vuole avvalersi del market tour certe deve quindi sono otto step pianificare il sistema di gestione fare comunicazione informazione interna raccogliere i dati rendi contare secondo workshop sviluppare una strategia introdurre un programma di miglioramento pubblicare il proprio cs report e accettare un audit esterno qualcuno viene dall'esterno che viene a valutare il processo iniziale può essere implementato nell'arco di 3-4 mesi quindi è lungo pensate è una programmazione che lo fa in base alle dimensioni dell'azienda sono necessari circa 10-15 giorni per la prima stesura del report gli audit esterni e la conseguenza della decisione della CSR e consigli garantiscono la maggiore credibilità possibile del sistema risultante report di sostegibilità delle imprese certificate io dico nel report però con l'audit esterno mi assicuro la mia credibilità il sistema di certificazione si tratta anche per piccole e micro imprese che operano in campo turistico per ottenere la CSR Certification for Tourism and Enterprises la CSR risponde ai seguiti requisiti pubblicare un sostenibile report che risponde ai requisiti della versione in vigore del CSR stilare un programma di miglioramento l'aggiornamento annuale deve essere inviato all'ente di certificazione senza bisogno di solleci quindi deve essere pure subito devi cioè è molto rigido il sostenibile report deve essere aggiornato dopo due anni dalla prima certificazione e successivamente ogni tre anni mettere il piano di miglioramento annuale poi adottare i seguenti elementi CSR Management CSM quindi politica di responsabilità sociale avere un CSR Manager una persona che si occupa di questo e un CSR programma di miglioramento da aggiornare annualmente questi sono i benchmarking quali sono gli indicatori da valutare emissione di CO2 per cliente al giorno quindi quando si emette per cliente emissione di CO2 per gli uffici valore aggiunto locale quantità di riformazione del consumatore indice di costum e satisfaction cioè quanto è soddisfatto il consumatore cultura aziendale cioè l'indice di soddisfazione del personale successo di impresa indice di soddisfazione per le agenzie di viaggio a parte indice di soddisfazione per le sistemazioni indice di soddisfazione per le guide turistiche per consentire il confronto quindi anche quelli quindi distinguo tra quelli che fanno voli da lunga, media e breve distanza ok quindi principio della corretta contazione quindi sarà verificato dall'auto di torno indipendente che verifica rispondenza con gli standard la plausibilità è vero quello che dici chiarezza e complessibilità del report quindi giudica anche la chiarezza rispondenza con requisiti minimi l'audit quindi è obbligatorio il report quindi consiste vabbè se il CSR non viene concesso se tu l'audit non concede la certificazione l'auditor deve motivare perché hai escluso l'impresa e poi c'è il conferisimento della label tour cert è una certificazione quindi un organismo operante della certificazione di responsabilità sociale di impresa del struttore del turismo con la direzione del CSR c'è un consiglio poi che decide su tutto tu presenti il tuo piano viene l'audit l'audit raccoglie elementi ti valuta e ti porta alla commissione la commissione decide se sei dentro o sei fuori tour cert il CSR depositario del registro dell'impresa è certificato in accordo lo stand CSR turisme degli auditor qualificati quindi anche il personale auditor deve rispondere a tour cert e dei consulenti CSR label l'impresa turistica che corrisponde riceve il certificato di conformità la licenza d'uso del logo per un primo periodo di due anni allo scadere si rinnova per tre anni e si rivaluta per vedere nel frattempo cosa è successo il barco può essere collocato in tutte le pubblicazioni dell'impresa e deve essere accompagnato alla seguente frase introduttiva il nostro sustainability report è stato redatto in accordo con il tour cert reporting standard ed è stato validato da un auditor indipendente cioè loro tengono molto al fatto che sia un auditor esterno indipendente per la veridicità inoltre l'impresa deve dedicare un indirizzo email o pubblicare una web page dove il sostenibile report possa essere richiesto o scaricato deve essere visibile e controllabile il rinnovo e poi programmi di miglioramento audit presso la sede dell'impresa preo della commissione chi sono i membri i partner di tour cert indicano i componenti del CSR certificano council fino a 12 membri per la durata di due anni rinnovabili il CSR è composto da esperti rappresentativi del modo dell'economia delle politiche ambientali e di cooperazione allo sviluppo e delle istituzioni i partner di tour cert non potranno costituire la maggioranza dei componenti del consiglio è perché sennò sarebbe di parte le organizzazioni rappresentate nel CSR certificato council dovranno indicare un membro effettivo e uno supplente i compiti sono quelli di indicare un presidente decidere sulle linee guida qualificare i CSR e gli auditori monitorare l'attività degli audit esterni quindi se tu vai a controllare però devi essere monitorato per quello che fai decide quali imprese possono ottenere la CSR firma e certificati opera con funzioni arbitrarie in caso di controversia tra gli auditori e le imprese monitoro le attività di tour cert quindi vedete è bella grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti